ciao ragazzi io sono leo e benvenuti sul canale tato dj oggi vi voglio parlare di una cosa e ve la parlo certo che ve la parlo ma dopo la sigla ragazzi questo video ci è un saluto perché vi voglio salutare perché ci vedremo di nuovo a settembre intanto questa estate vado avanti con le produzioni così a settembre abbiamo un stacco di video da pubblicare netti netti e veramente ma gli iscritti sono aumentati nettamente poi abbiamo raggiunto più di 65 video e ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanellina qui sopra e spolli e spolliciate in su quest'anno è stato un anno magnifico e lo so che non uscivano per un mese i video però andatevi a vedere quelli passati e ditele ai vostri amici di dirlo ai loro amici degli amici, degli amici degli amici degli amici degli amici degli amici degli amici degli amici... penso che abbiate capito comunque ragazzi mi dispiace è andato a dirlo dire a tutto il mondo perché il nostro canale deve diventare non un canale solo una grandissima famiglia, dato, 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 DJ!